Mi puoi raccontare un segreto, una cosa che vuoi svelare in anteprima solo a me che non sa ancora nessuno? Un segreto? In realtà ce ne sta uno un po' forte, non so se sei pronto. Hai provo a dirlo? Allora, ero già maggiorenne e mi ricordo che a Milano in una serata, cioè di solito ci sono nei locali più in, ci sono tanti politici, cioè comunque persone un po' importanti, no? E c'era questo politico di centrodestra che diciamo gli dava un po' le occhiatine, così. Allora, parliamo e niente, alla fine siamo andati insieme. Avete concluso? Sì, abbiamo concluso, ma ci giuro che mi ha chiesto le peggio cose.